La telecivita vecchia SCARL, il titolare della impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TRC Telecivita Vecchia, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni europee, nonché del sindaco di Civita Vecchia e del Consiglio Comunale di Civita Vecchia, indette per i giorni sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. A tal fine informa altre sighe sul proprio sito web www.trcgiornale.it, presso la propria sede ubicata in Civita Vecchia, via Felice Guglielmi, numero 26, indirizzo di posta elettronica certificata Telecivita Vecchia, chiocciolapec.it, numero telefonico 0766 24820, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente le condizioni temporali di prenotazione per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con le indicazioni del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe d'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Telecivita Vecchia a SCARL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Grazie 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 Non solo, proporremo anche un'edizione flash del telegiornale dalla durata di un minuto disponibile anche sul canale WhatsApp della nostra emittente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.